Non importa se molti hanno pregiudizi su di te, se hai un carattere pungente, oppure se sei vecchio e indurito dalla vita, o invece se sei ancora giovane e soft. Non importa se sei tondo, non importa se ti senti appeso a un filo, non importa se sei veramente a pezzi, oppure se senti un vuoto incolmabile. Fra le nostre braccia sarete sempre benvenuti.